Ciao ragazzi, eccomi qua, vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok, su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 30 anni, soffro di un po' di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti, per questo ho voluto aprire questo canale per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino, parleremo quindi e discuteremo del vostro futuro, vi racconterò di come vogliamo rendere l'Italia un paese che possa darvi nuove opportunità e la possibilità di realizzare i vostri sogni, vi parleremo di attualità e vi parleremo i punti principali del nostro programma, soprattutto voglio ripeterlo, quelli che vi riguardano da vicino come ad esempio la detassazione, la decontribuzione per le imprese che vi assumeranno. Quindi a presto, ancora ciao su TikTok.